Il Cineteatro Don Bosco con il patrocino del comune di Bova Marina presenta Pro Scenio, stagione teatrale 2015-2016, direttore artistico Giacomo Battaglia e aperta la campagna abbonamenti. Per informazioni visitare il sito www.cineteatrodonbosco.info o telefonare al 388 92 36 509, 17 dicembre ore 21, concerto di Natale 4 quarti. Grazie per la visione!